Europa e territori, un incontro qui a Rivara per spiegare un po' agli amministratori locali che in fondo delle risorse dalla comunità europea possono arrivare, quelle che magari non arrivano più dallo Stato. Sì, in questo momento soprattutto di grave crisi, di assenza quasi delle istituzioni nazionali che sono prese ovviamente da problemi molto più grandi, è importante far sentire anche agli antilocali, anche ai piccoli antilocali del Canavese che ci sono delle realtà più grandi, che hanno a cuore le piccole realtà e che hanno anche disponibilità finanziarie importanti. Un incontro nel quale, insomma, non fate solo della teoria ma spiegate anche come si può attingere a questi finanziamenti. Sì, la novità diciamo che è prettamente questa, non solo conferenze ma esercitazioni pratiche. Infatti nel corso dei prossimi appuntamenti i tecnici comunali, gli amministratori che vorranno continuare a seguirci avranno la possibilità di toccare con mano la realtà della progettazione europea, scrivendo dei progetti assieme a dei funzionari che poi sono anche quelli deputati a valutarli. La comunità europea diventa più vicina così ai territori? Più vicina, più funzionale e speriamo molto più utile. In pratica quindi c'è un percorso per portare risorse anche nei piccoli comuni? Ma in assoluto sì, ci sono due linee importanti di progettazione. Uno, una progettazione indiretta che è gestita dalle nostre amministrazioni, dalla Regione Piemonte che farà uscire dei programmi operativi e che quindi darà accesso sia ai singoli comuni direttamente sia a comuni che si associano, sia a associazioni di comuni già preesistenti. Esiste anche altresì una interessantissima opportunità di fondi diretti. I fondi diretti sono quelli emanati direttamente da Bruxelles, al quale si ha un accesso, sono fondi cofinanziati, quindi sono a sostegno dal 50 all'80-90% del costo totale del progetto e finanziano tantissime attività che prevedono però la creazione di partenariati internazionali. Cosa vuol dire? A partire dal programma forse più interessante per le piccole amministrazioni che sono i programmi di gemellaggio, sostengono sia la creazione di nuovi gemellaggi tra città europee sia ogni anno le attività tipiche del gemellaggio, quindi magari coinvolgendo, il Comune potrebbe coinvolgere l'associazione che si occupa del gemellaggio o la scuola locale in scambi con altre città con cui è in rete. Esistono anche altri progetti legati più sulla cittadinanza ma progetti anche in ambiti diversi, scambi giovanili, in generale apprendimento su tutto l'arco della vita, quindi possibilità di scambiare con altre città e anche un programma specifico per condividere le buone prassi nella pubblica amministrazione. Io credo che ci siano opportunità, l'Unione Europea ha fatto uno sforzo di rendere e di semplificare questi programmi, l'accesso è un pochettino più agevole che nella programmazione passata, anche il livello di rendicontazione richiesto è più una rendicontazione per attività e non una rendicontazione analitica di conti, scontrini e altre cose perché l'Unione Europea sente che nel momento in cui c'è questo scambio di condivisione tra diversi paesi d'Europa, questo crea di fatto l'integrazione. Quello che bisogna fare è aprire questi canali, avere un trade union per non lasciare gli enti da soli perché gli enti conoscano questi canali. Sì, è importante sicuramente fare promozione, esistono iniziative a diversi livelli che promuovono questi programmi, ci sono diverse iniziative anche nella nostra regione, questa è una delle iniziative, diciamo questo percorso è un po' più peculiare perché all'interno di questo primo incontro generale i comuni che hanno partecipato a questo programma possono indicare quali programmi di finanziamento reputano più interessanti per il loro comune e su questi specifici verrà fatto un approfondimento che arriverà fino anche all'incontro tra la proposta progettuale e il formulario. Questo sicuramente darà elementi. L'altro aspetto importante è che trattandosi di una programmazione di sette anni, oggi per prendere di mistichezza con questi strumenti significa investire veramente per il futuro della propria amministrazione.